Come è Facebook? Chi ti li è? Facebook? Che chi è Facebook? Pietro? Pietro? Ma Facebook che è? Maria vieni qua che tu sei il trucco, vieni qua Maria vieni qua Maria vieni qua che tu sei il trucco Ma stai facendo una ripresa? No, non è una ripresa Non è una ripresa Trovella, cappuccino? Sì, grazie Questa è una classica mattinata in pizzaiolo Guarda, c'è la pizzaiolo qua I clienti I clienti Si congetta Almeno si è arrabbiata oggi Caterina auguri per ieri, eh Santa Caterina Alza la testa Facciamo così Caterina Concentina Tu dò una Caterina di zitti Caterina di zitti Caterina di zitti Caterina di zitti Grazie.